E' un pi... Dobbiamo spostarci nella tua stanza. Non serve. Non serve. Voglio essere diretto, Randvi. Tra noi due non può funzionare. Mi dispiace. Sei stato molto diretto. Se ne sei certo, devi sapere che... non tornerò indietro. Non voglio continuare a soffrire. Ci ho pensato a lungo. E non può funzionare. Non per me. È dura sentirlo. Ed è dura ammetterlo. Ma forse hai ragione. È stato ingenuo pensare che potesse durare. Devo andare. Eivor. Petra. Petra. Che stai aspettando? Baciami. Vieni qui da me. Che stai aspettando? Devo andare. Eivor, che bello vederti. Eivor, tesoro. Che bello vederti. Perché non passiamo un po' di tempo in privato? Mi piace come pensi. Vieni qui da me. Vieni qui da me. Vieni qui da me. Eivor, tesoro. Eivor, tesoro. Che bello vederti. Sono passato a darti un bacio. Come sei dolce, amore mio. Vieni qui. Eivor, tesoro. Che bello vederti. Petra, non mi è affatto facile dirtelo. Ma tra noi deve finire. Il nostro rapporto non funziona. Non può continuare. Capisco. Sei certo di non volerci riprovare? Pensi che non ci sia speranza? Ne sono certo. Ne sono certo. Lo immaginavo. E apprezzo la tua onestà. Ora va via, ti prego. Voglio restare sola. Devo andare. Allora. 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 Allora.